Un nuovo step per l'ex Galateo di Lecce. Dopo la riapertura del parco, chiuso per diversi mesi a causa del pericolo crollo di alcuni grossi alberi presenti all'interno, ora l'amministrazione comunale punta all'attivazione del bar. E di queste ore la notizia dell'apertura di un bando ad hoc per la gestione di un'attività commerciale ad uso bar-ristoro e relativi servizi igienici. La giudicazione avverrà mediante assa pubblica. Il contratto di locazione efficace dalla data di stipula dello stesso per sei anni successivi, fatta salva la facoltà del conduttore di rescedere alla scadenza di ogni anno e quella del Comune di Lecce di fare un passo indietro in qualunque momento. Il canone annuo posto a base di gara per la locazione dell'immobile è pari a 4.900 euro. Chiunque si aggiudicherà il bando dovrà necessariamente garantire l'apertura e la chiusura del bar secondo i giorni e gli orari di apertura e chiusura delle attività organizzate dall'amministrazione comunale presso lo stesso parco urbano e cioè dal 1 gennaio al 31 maggio, dalle 7.30 alle 21, dal 1 giugno al 30 settembre la chiusura invece verrà prorogata fino a mezzanotte così come in tutti i sabati. Non a caso nel bando si facendo anche alla possibilità di promuovere, gestire e organizzare eventi attinenti o connessi. La chiusura del parco e dunque anche del punto ristoro è strettamente legata all'allerta meteo per il rischio ideologico per temporali localizzati nella città di Lecce ed è comunque disposta per una cinquantina di giorni l'anno. Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Lecce entro e non oltre le ore 12 del 26 maggio. Intanto si attende che arrivi a conclusione l'iter burocratico che porterà invece all'avvio dei lavori dell'immobile che rientrano nel progetto di rigenerazione di quello che un tempo era il sanitorio antitubercolare Gallateo. Prima però dovrà essere redatto il progetto esecutivo, poi è prevista la messa a bando dell'edificio e dunque l'affidamento dei lavori, un percorso che chiama in causa direttamente Puglia Valore Immobiliare, società della regione Puglia proprietaria dell'immobile. Realizzato tra il 1932 e il 1934 dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale nell'ambito delle azioni di contrasto alla tubercolosi è frutto di un modello architettonico basato su principi prestazionali che dovevano rispondere alle tecniche di cura messe a punto durante gli anni 20 e 30. Il Gallateo è rimasto in funzione fino alla metà degli anni 90 quando è stato definitivamente abbandonato. Nel progetto è prevista la realizzazione di alloggi per studenti, giovani coppie e anziani, ma non solo. Nasceranno negozi, sale studio, un asilo, lavanderie comuni, un progetto dunque all'insegna della condivisione della socialità. L'obiettivo ambizioso è quello di costruire un nuovo modello abitativo.